Il film che è diventato il caso cinematografico dell'anno. Era tutto finito. Invece no. Candidato a 16, David Di Donatello. Tra cui migliore attore protagonista, Claudio Santamaria. Migliore attrice protagonista, Ilenia Pastorelli. Migliore attore non protagonista, Luca Marinelli. E miglior regista esordiente, Gabriele Mainetti. Lo chiamavano gig robot. È entusiasmante. Indimenticabile. Un trionfo. Un gioiello. Il film più acclamato dell'anno. Lo chiamavano gig robot. Torna finalmente al cinema dal 21 aprile.